Angela! Che cosa ci fai qui? Dov'è Valentina? Perché non è con te? Dove l'hai lasciata? Vanessa Incontrada torna su Rai 1 con la miniserie Come una madre dal 2 febbraio in tre prime serate per la regia di Andrea Porporati Questa volta interpreta Angela, una donna distrutta dalla morte del figlio di 9 anni in un incidente stradale Ha perso tutto e per ritrovarsi fugge nella casa della sua famiglia su un'isola dell'arcipelago toscano dove la vicina, che conosce appena, un giorno le affida per qualche ora ai suoi figli Deve andare a un incontro che le sarà fatale e Angela si ritrova con i due bambini in un'avventura per l'Italia da nord a sud inseguita da criminali senza sapere neanche il perché Un road movie in cui si raccontano un viaggio e una fuga ma anche un'occasione di rinascita per un'eroina quasi per caso Nel cast tra gli altri Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno, Simone Montedoro e Katia Ricciarelli Sì 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 Quanto le devo?